Auguri amici, buon 2023 e vedrete che dopo tutto quello che è successo di brutto nel 2020, 2021, 2022, il 2023 non potrà che essere un anno migliore, abbiate fiducia che le cose poco per volta si sistemeranno tutte. Ci ho detto un sacco di cazzate, non ci credo affatto, non credo assolutamente che il 2023 sarà un anno migliore a livello globale, anzi non voglio fare l'uccellaccio del malaugurio ma temo che la guerra in Ucraina non finirà come non finirà purtroppo il martirio del popolo ucraino, le altre guerre nel mondo non cesseranno, anzi potrebbero nascere nuove guerre, pensa ad esempio a quello che potrebbe accadere se la Cina aggredisse Taiwan, la guerra impossibile, dopo le minacce di Putin è diventata una reale possibilità. Il Covid che sembrava ormai sconfitto potrebbe ritornare anche in Italia visto che la Cina è passata da un giorno all'altro dal lockdown totale al liberi tutti e in Cina c'è molto Covid e sappiamo quanto si possa diffondere velocemente. I cambiamenti climatici, mentre non sono sicuro, spero di sbagliarmi per quanto riguarda la guerra e per quanto riguarda la pandemia, sono ahimè convinto che anche in questo 2023 avremo disastri ambientali, siccità, lagamenti, grande freddo, grande caldo. Insomma la prospettiva a livello mondiale non è delle migliori, però l'importante è che dentro di te tu conservi la fiducia che qualunque cosa possa succedere là fuori, cioè nel mondo, tu ce la farai. Noi non possiamo controllare quello che avviene nel mondo, sono cose più grandi di noi, però possiamo controllare quello che avviene dentro di noi e questo è ciò che fa la differenza. Quindi avere la consapevolezza, la certezza che beh può succedere quello che vuole là fuori, ma io me la cavo, ma io credo in me stesso, ma io ho fiducia in me stesso ed è importante trasmettere questo anche ai nostri figli in questo mondo così incerto in questo mondo che fa anche paura. Le certezze di una volta non ci sono più, il posto fisso, la casa per sempre, la famiglia per sempre, sono tutte cose che possono sparire da un momento all'altro, ma quello che non deve sparire è la convinzione che noi valiamo, che noi siamo capaci di superare tutti gli ostacoli. D'altronde se siamo arrivati fino ad oggi più o meno sani e salvi vuol dire che abbiamo una certa dote di resilienza. Resilienza, questa parola che è diventata di moda, vuol dire semplicemente questo, essere capaci di non lasciarci abbattere dalle inevitabili vicissitudini, tragedie della vita. Quindi il mio augurio per l'anno nuovo non è speriamo che le cose vadano bene, andrà tutto bene, abbiamo visto che brutta fine ha fatto questo slogan dell'inizio del covid che sa di presa in giro. Il mio augurio è che tu possa trovare la forza interiore per cavartela qualunque cosa accada e se tu riesci a restare sereno potrai portare serenità e positività anche agli altri. Auguri di buon 2023!